C'è stata notificata questa sentenza di secondo grado della Corte di Appello di Salerno in cui il Comune di Sala Consilina è stato condannato al pagamento di 111.000 euro per risarcimento danni in relazione a una problematica molto annosa, molto vecchia, perché stiamo parlando di pratiche del terremoto che sappiamo tutti essere avvenuti il 23 novembre dell'Ottanta e di questa in particolare. Siamo nella seconda metà degli anni Ottanta. Si tratta di una situazione quando le deleghe per le pratiche di terremoto erano gestite dal pubblico per poi essere passate al privato e nella situazione specifica gli eredi dell'allora proprietaria hanno citato il Comune per delle inadempienze che sarebbero state fatte, non da dipendenti comunali o da funzionari del Comune ma da tecnici che avevano la delega di svolgere queste determinate pratiche sia per quanto riguarda la progettazione che la direzione dei lavori. Dopo aver vinto la causa in primo grado all'esito del secondo grado è stato ribaltato questo giudizio e il Comune è stato condannato. La precisazione che si vuole fare, che come già le carte chiaramente esplicitano, si tratta di una questione vecchissima, stiamo parlando di una vertenza che è partita nel 1997, il cui appello è stato fatto nel 2011 e che quindi non comporta la responsabilità di nessuno degli amministratori presenti, né tantomeno ribadisco di alcuni dei funzionari ancora in carica del nostro Comune. Certamente per il senso di responsabilità che ci appartiene noi abbiamo dato mandato all'Avvocato per percorrere anche il terzo grado di giudizio, il ricorso in Cassazione.